3 milioni di lombardi hanno votato per l'autonomia, fa bene il candidato governatore del centrodestra Fontana dire che sarà prioritario istituire un assessorato agli enti locali perché i comuni negli ultimi 5 anni hanno subito tagli per 10 miliardi di euro, senza soldi i comuni non vanno da nessuna parte. Io porto l'esperienza concreta di Correzana per fare un pezzo di pista ciclabile di 30 metri, dobbiamo partecipare a un bando della regione, sperare di vincerlo, seguire tutte le procedure burocratiche che portano alla trasparenza, agli obblighi di legge e così via e perdi due anni per fare 30 metri di strade. Stiamo aspettando da 2014 200 mila euro dal governo Renzi per un bando vinto e finanziato per ristrutturare le scuole, soldi che non sono mai arrivati, quindi il programma nazionale sicurezza e lavoro. Il programma locale è ridare autonomia ai comuni perché senza soldi non si va da nessuna parte.